Buonasera, benvenuti come sapete tutti, questa conferenza stampa del nuovo acquisto della società Unione Sportiva Recce, 1908, è molto ambito dalla piazza, adesso ve lo presento, ecco qua, Salvatore Ruggero, facciamo una foto. Allora, come sappiamo questo giocatore è arrivato dopo una lunga trattativa per 12 milioni e mezzo e stiamo arrivati, se puoi un attimo metterti la scia per fare i felici tifosi, ecco qua, per far vedere lo stampa per favore, fai una foto, ancora con la mano, vai, ecco qua, allora, adesso una piccola kick che i tifosi dicono, Salvatore, so che mi hanno detto che sei bravissimo a giocare con le palle, quindi se puoi deliziare il pubblico con la mano, fai quello che ti pare, delizia un po' il pubblico. Un applauso, un applauso! Quest'anno con questo acquisto, come detto, voglio dire grandi cose alla società, Salvatore, non voglio prendere grandi impegni, però vogliamo la Champions, come ci dice il pallone, vogliamo la Champions. Quindi, c'è una domanda, c'è una domanda, che ti è stata, di te è stata, nome e poi... La gazzetta dello sport, ovviamente. Signor Ruggero, le sembra giusto, le sembra normale per un giocatore del suo calibro, così giovane, già l'impegno di una prima squadra? Ma sicuramente è un impegno arduo, soprattutto perché è una squadra già ben collaudata, arrivare che è già un campionato in corso, una squadra che comunque è in testa alla classifica, sicuramente sarà difficile mettersi già in una squadra ben collaudata, però ci proveremo. Grazie. Grazie mille, allora questa conferenza stampa è terminata, quindi lo vedremo in campo e vinciamo questo campionato, torniamo agli alti livelli e vediamo che vinciamo la Champions. Grazie.